Ponele in lasa ai su necassosapte per un teo pitepatato al sant Avemo un codax se no me sta ideo cinza si Ma mamma mia Non dice ideo cin cin E ivala no ideo treizeci Ideo treizeci Bon Spex treizeci Bon treizeci Zero Machina Viteza Maxima La mai mucu Mamma mia Omu meo yardeni din nasa Ami Ami saluta pe el che nu me are Mamma mia Omu meo ai dio O Otro trei Si Marshall are uh inte 3 ii iu iuu 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 aman Si viteza zeigen Masino Masino viteza fului iget masina viteza fului iget si mai multa si mai multa si mai multa aia mai buc mamma masina viteza fului iget in alarma mamma ci am chius lama ai dus cin cin se passe mamma mia da si è passato da da proveste singa pavla cava ea tu è bella cava ea tu oh bella cava ea tu me fii eeeh petto suta 3 pesa mno pes fasero suta 3 mamma codaci tomme i ruti din lasa src codaci di din lasa le jeju mamma a noi ano la singu ma ma hai di dos te sai di sammelo no no io mamma ai 2-3-1 are heck mamma fondato io non opa a trezze tizile arban daca are heck baiatul daca folosesse ai de la mine trezze tizile opa ai 2-8 paine cu jahar 101 da opa a trezze tizile arban daca opa a trezze tizile arban daca ooooh mamma mia ma oh e zero la e e e che i a per me cuter mamma co-adapti cuter kado wow cuter kado la comanda you by ato now idu up mamma mamma buo uigrette mamma si viti zare fac pari viti zare si viti zare siu e te te da 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 è un'idecdiff che d'oro ma mamma renorme a tomero da ma poste adaric Ra da ieri Oh diventa viva la aicia Monde usa quindi parla aici Ah isa isa non è vero bene report ok questa è stata qui questo è quello la posta se iau sa ridic manigliile profi si 2 euro e cipro da se furne meu pa pe copt mamma cum o in mamma jobul de cittivale sbaiatul meu yo mamma coutero si a ales mamma c'e fumo coutero bai not a jese coutero man zero Stai stai sa vedem Sa vedem ce face omul meu Adina IDU Uiem Gotova 6 IDU Oì ste 7 Venite halfulating Hayde la min rainbow Mamma mia ma 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 siu'na feligretto uwaa bora ma ma siu'na feligretto iu ma ma be'yato mi avandella mi hai bantaro manet iaf si feligretto go to ma siu'na idu un stai temaci am chiam trezid e pot in 50 50 50 50 50 si zero unde è stato il baiatone mio baiatone si non so se si intampla con il ah buon si margem la roleta sau la quest nu facem nici un quest 3000 am micul postului ai de 72 e de 72 bombenel interlopul e ma bombenel interlop credi am 8 20 2000 bon no este goto le fel 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 da se fule de cial gata de cerchial bucate minuto minuto frumos daca facem mai comune quindi il mio non è postcard quindi si deve credere e automati che ci sono 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 sì ma sì sì prima linea è obbligatoria prima ora non ce non come ne sono era ma Mamma, tutta la lumea strega lumele meu in ala si ala Ce vrei ma? Zizi fratele mio Mamma cum vorbește la omul Poi omuletul meu de fai vei ala nou Hai capu 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 Ah da corect Capu vine ancora? Nu Cate 200 de mante Nu o impatram Nu am piatut Am Restecat niste diamante cu cuchitie Hai 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 Rapid diamante aur Si-a dat ceva la parate Aaaaaaah Becate un puncte impremio am yo Am puncte primio sapte sote cinza se sapte puncte premio Mamma punte primio Cine dau Bani su Mamma ai de la mine ban Baiato E de la mine ban permanent Mamma direc ban permanent ai dinos patru Ma ai de la mine ban Baiato E de la mine ban Reducu Baiatine Pak Aia Mamma mia Baiatine edizione, Venox, criptore lui ha ragazzati roto con ragazzati alai se passa un pozzo mamma mia pozza cupulli e grat mamma non c'è nimic si avem un codart din dinasa opa s-a scris nu, 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 nu de aia incolo ai pelera inca trei dure si malade pacaneaua da inca inca trei u 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